Grazie a tutti i più importanti nelle NMA, all'alto blu, dal Brasile, con otto combattimenti vinti, due da K.A., due terza, sopra il bravo Morcego. Signore e signori, siete in generazione a contattere, andiamo a scuola, siete in parola! Grazie a tutti i più importanti nelle NMA, all'alto blu, dal Brasile, con otto combattimenti vinti, quattro per K.A., sette per sottomissione, due per decisione, nove sconfitte e due pareti, vincitori di Octagon 1999, di Octagon 2000 e di Octagon 2001. Signore e signori, il ritorno del guerriero, da Roma, mi chiede a non mai perdere lì! Grazie a tutti i più importanti nelle NMA, all'alto blu, dal Brasile, con otto combattimento,